In questi minuti la sentenza per l'omicidio di Nadia Orlando, chiesti 30 anni per il reo confesso, aggiornamento in diretta dal Tribunale. La diocesi si rinnova, meno foranie e nascono le collaborazioni pastorali, ne parliamo in studio con l'arcivescovo Mazzocato. Ottenuto il riconoscimento IGP nasce l'Associazione dei produttori di Pitina, obiettivo ampliare il mercato a beneficio dell'economia locale. Quarto giorno di allenamento per l'Udinese con programma modificato, mattinata al Bruseschi e nel pomeriggio lavoro sulla corsa in palestra. Buon pomeriggio dalla redazione di Udinews, lo avete sentito nei nostri titoli, sono minuti decisivi questi per quanto riguarda la sentenza per l'omicidio di Nadia Orlando in collegamento in diretta dal Tribunale. Abbiamo il nostro David Zanirato che sta seguendo la situazione. David, a te la linea per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Angela, ci troviamo all'esterno dell'Aula B del Tribunale di Udine dove, come ricordavi tu, è atteso entro breve il verdetto sul processo nei confronti di Mazzega, omicidio legato a Nadia Orlando avvenuto a Vidulis di Dignano il 31 luglio dello scorso anno. L'udienza è ripartita questa mattina alle ore 10. Mazzega è arrivato con la vettura della Polizia Penitenziaria, camicia azzurra, giacca scura e testa bassa entrato dal retro all'interno dell'Aula. Una udienza che, lo ricordiamo, si tiene a porte chiuse perché è stato richiesto il rito abbreviato. In mattinata c'è stata la replica del PM Letizia Puppa, ci sono state le repliche dei legali di difesa di Mazzega e delle parti civili presenti in Aula i genitori Andrea Antonella e il fratello Paolo di Nadia Orlando con i loro legali, il sindaco di Dignano Riccardo Zuccolo, parte civile così come l'associazione contro la violenza sulle donne di Pordenone e dalle 11.15 il giudice Maria Rosa Persico, il GUP, è in Camera di Consiglio e quindi non appena avremo notizie sul verdetto vi richiederemo subito la linea. A te Angela. Grazie, grazie. Allora David Zanirato per questo aggiornamento in diretta dal Tribunale di Udine. Ovviamente appena avremo novità ci ricollegheremo subito con il nostro inviato. Adesso parliamo della Diocesi di Udine, Diocesi che sta per cambiare volto. Ve lo facciamo assieme all'Arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato in studio con noi oggi. Buongiorno Arcivescovo e benvenuto. Oggi è una giornata importante per la Diocesi di Udine perché alla vigilia della festa dei Santi Patroni, Ermacora e Fortunato, questa sera in occasione dei primi Vespri verranno nominati anche i nuovi otto vicari foranei che andranno a comporre questo nuovo organigramma della Diocesi. Le chiedo innanzitutto di spiegarci come cambierà concretamente l'organizzazione della Diocesi, poi andremo anche a spiegare il perché di questo processo iniziato tanti anni fa. Come sarà organizzata la Diocesi di Udine? Diciamo la novità principale è l'introduzione di quelle che noi chiamiamo le collaborazioni pastorali che vuol dire mettere in rete parocchie che sono vicine a un territorio, vicine per territorio, per tradizione, per esperienze già di collaborazione e avviare una forma di comunione collaborazione organica, secondo alcuni criteri che abbiamo studiato e che sono in un documento che questa sera ufficialmente presenterò in Diocesi. Quindi la novità è questo collaborare tra parocchie mettendo insieme le forze. E le vecchie foranie che fine faranno? Allora, un buon numero di vecchie foranie di fatto diventano a collaborazioni pastorali. Le nuove foranie che saranno otto sole cambiano un po' di fisonomia, diventano come coordinamenti di area vasta. Però il luogo, per così dire, in cui si fanno i progetti pastorali, in cui si mettono insieme le energie, in cui le persone speriamo imparino a condividere insieme la vita e l'attività, saranno le collaborazioni pastorali tenendo conto che non sopprimiamo le parocchie. Le parocchie restano punto di riferimento fondamentale. Piuttosto creiamo una rete tra parocchie. Per mettere assieme appunto i servizi, creare nuove collaborazioni, nuove sinergie. Perché si è arrivati a questa riorganizzazione? Di cosa c'era bisogno? Cosa c'era che non funzionava, che non andava bene? Diciamo che lo scopo principale è quello che la Chiesa ha avuto dagli inizi, dai tempi di Armacora e Fortunato, cioè dall'inizio della predicazione del Vangelo, cioè predicare in modo efficace il Vangelo, formare le coscienze al Vangelo, alla vita cristiana, trasmettere la propria fede. Allora abbiamo visto che sono cambiate alcune situazioni concrete che chiedono un ripensamento in questo senso. Faccio esempi velocissimi. Le persone sono molto più mobili nel territorio, fanno meno riferimento alla singola parocchia, quindi ecco un'area più ampia per aiutare le persone a fare questa esperienza. Oppure parocchie molto piccole che non hanno più le energie per offrire certi servizi. Anche una certa diminuzione del clero, anche se abbiamo una ripresa in seminario, ringraziando il Signore. Una serie di elementi attuali che ci hanno spinto a cercare nuove modalità proprio per continuare la missione antica della Chiesa, che è trasmettere la fede. Un risultato al quale voi siete arrivati dopo un lavoro iniziato parecchi anni fa? Ecco, posso dire con una certa soddisfazione che non è un progetto calato dall'alto, ma è un progetto costruito attraverso un continuo ascolto del territorio. L'anno scorso abbiamo interpellato tutti i consigli pastorali, abbiamo raccolto tantissime osservazioni, pensi che abbiamo elaborato da tutte le osservazioni, oltre 500 schede, dai quali abbiamo ricavato stimoli, fino al documento finale, che è un lavoro che noi chiamiamo sinodale, cioè costruito insieme. E questa sera appunto ci sarà la presentazione ufficiale, diciamo così, la consegna a tutti i fedeli di questo documento. e diciamo presentazione degli otto vicari forani e di una commissione particolare di preti e laici che accompagneranno col Vescovo l'attuazione del progetto. Vi siete posti un obiettivo per quanto riguarda appunto questo progetto? Beh, il progetto parte con delle linee abbastanza chiare sulle quali vogliamo camminare. Contemporaneamente resta un progetto aperto, quindi fra cinque anni, quando scadranno i vicari foranei e anche gli altri organismi, ci siamo proposti di fare una verifica, una verifica approfondita perché potrebbero esserci anche delle modifiche e degli aggiustamenti. Arcivescovo, la fermo un attimo perché vedo delle immagini che ci arrivano in diretta dal Tribunale, quindi chiedo di collegarci con il nostro David Zanirato per vedere quali sono gli aggiornamenti. Davide, ci senti? Davide, ci senti? Sì. Io ringrazio tutte queste persone qua che hanno fatto di tutto, di tutto veramente per aiutare. Grazie. Sì, sì, è stata confermata la pena richiesta dal Pubblico Ministero. Quindi le aggravanti sono state concessi? Sì, sì, sono state concessi le attenuanti. Il Tribunale di Udine ha deciso che la pena era quella richiesta dal Pubblico Ministero, quindi un omicidio aggravato dei motivi futili, così come pensavamo e quindi riteniamo che sia una sentenza giusta, una sentenza congua per la gravità dei fatti commessi quel 31 luglio dell'anno scorso. Com'è oggi? Non è andato via. Ha sempre tenuto la testa bassa durante tutto il processo, quindi è uscito. I familiari, i genitori? I familiari adesso sono un po' scossi, ovviamente è un anno di tensione e adesso insomma mi riservo di parlare con loro, però insomma ci sono un po' liberati da un piccolo peso per quanto ovviamente la tragedia di Nadia non è certamente dimenticata. Rimarrà comunque ai domiciliari? Certamente, fin quando la sentenza non diventerà definitiva, rimarrà ai domiciliari, lo prevede la normativa. E quanto tempo può passare ancora? Adesso vedremo, il giudizio ha dato 90 giorni per le motivazioni e quindi conseguentemente poi valuteranno i difensori se fare appello o se verrà fatto appello, ovviamente il termine diventerà più lungo, diversamente diventerà definitiva prima. Il risarcimento? Il risarcimento, a parte il fatto che il risarcimento non era una cosa che ci interessava, ovviamente era un atto dovuto, è stata una richiesta ovviamente dovuta al ruolo che ci compete. nessun risarcimento potrà essere congruo e soddisfattivo, il giudice ha correttamente deciso di rimanarlo la valutazione in sede civile disponendo comunque una provvisionale di 200 mila euro per ciascun genitore, di 100 mila euro per il fratello, però ripeto non è questo il punto perché l'aspetto risarcitorio era proprio qui l'ultimo, l'ultimo, degli aspetti che ci interessavano. Avete sentito Angela, dunque in diretta live è stata confermata la richiesta del PM Letizia Puppa, 30 anni per Francesco Mazzega, queste erano le parole dell'avvocato della famiglia Orlando, Fabio Gasparini, dunque confermate le aggravanti, si giocava proprio su questo punto l'udienza di oggi, sconfermate le aggravanti, 30 anni è la pena a massima perché lo ricordiamo era stato richiesto il rito abbreviato, dunque ora andremo a cercare di avvicinare ai nostri microfoni anche i genitori familiari per un altro commento. Grazie, grazie a David Zanirato per questo collegamento, abbiamo dunque sentito in diretta la sentenza, la conferma di quanto chiesto dal PM e quindi condanna a 30 anni di carcere per Francesco Mazzega. Arcivescovo Mazzocato, non possiamo commentare le sentenze, però cosa possiamo dire in questa situazione in cui ci sono due famiglie, un'intera comunità ancora scossa per quanto accaduto? Come ho espresso a suo tempo, subito dopo questo tragico evento, penso che sia solo da esprimere una grande vicinanza ai genitori purtroppo della ragazza che ha perso la vita in quel tragico gesto folle, però devo dire anche ai genitori dell'omicida che peraltro, specialmente il papà ha avuto occasione di conoscere, ecco sono quegli eventi terribili, la giustizia deve fare giustamente il suo corso perché è giusto fare la giusta giustizia e per il resto come vescovo la preghiera è una vicinanza di cuore a tutti. Grazie allora all'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Mazzocato oggi con noi per presentare questa riorganizzazione della Diocesi di Udine alla vigilia anche della festa degli Santi Patroni che ricorre domani. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e apriamo la pagina politico-amministrativa perché questa mattina a Trieste c'è stata una conferenza stampa durante la quale il presidente della regione, Fedriga, ma anche i vertici di autovie con il direttore Castagna hanno fatto un po' il punto della situazione lavori per quanto riguarda la terza corsia ma anche interventi che la regione intende mettere in atto per cercare di diminuire i disagi anche sulla viabilità ordinaria causati appunto da questi lavori. Sentiamo le interviste. Sì, noi in una situazione ovviamente critica con i lavori sull'autostrada per creare la terza corsia stiamo cercando di mettere in atto quelle misure per agevolare queste criticità che oggettivamente ci saranno, però abbiamo creato questo piano straordinario per diminuirle il più possibile con un investimento di 600 mila euro per gli ausiliari del traffico, quindi per le vie alternative a quell'autostradale quando si congestiona l'autostrada e quindi migliorare in caso di emergenza quel tipo di mobilità. In secondo luogo il limite di 60 all'ora per i mezzi pesanti e quindi cercare di diminuire le possibili criticità legate ad incidenti autostradali. Terzo luogo, che è la parte principale, quella di ridurre il più possibile i tempi per l'esecuzione dell'opera. Rispetto anche ai contratti in essere noi pensiamo di poter ridurre di mesi e quindi andare a guadagnare soprattutto un periodo estivo e parlo quello del 2020, così da poter rendere finalmente la nostra regione per quanto riguarda la viabilità autostradare al passo quei tempi con una terza corsia che possa garantire il diritto alla mobilità dei nostri cittadini. A settembre ci saranno le prime deviazioni di traffico su piccoli tratti e alla fine dell'anno ci sarà la prima deviazione importante del traffico sulla prima campata del ponte sul tagliamento. Quello sarà proprio il momento in cui capiremo quando ci sarà la fine dei lavori. Noi auspichiamo che siano, come dicevo, a metà del 2020. Proseguiamo con la cronaca. Il questore di Pordenone, Marco Dorisio, ha disposto la chiusura per 30 giorni del bar Marconi nell'omonima via e denunciato il titolare, un cittadino cinese di 36 anni, per agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti. Durante i controlli effettuati nella notte tra lunedì e martedì, gli agenti della volante hanno riscontrato tra gli avventori molte persone con precedenti in materia di stupefacenti. Verifiche successive hanno portato al rinvenimento nei servizi igienici, nei cestini e anche all'interno dello stipite della porta di dischetti di celofan notoriamente utilizzati per confezionare le dosi di eroina e cocaina, con l'estremità termosaldata, a riprova del confezionamento delle singole dosi di droga all'interno del locale. È stata trovata anche una siringa monouso. Il bar era già stato oggetto di alcuni interventi delle forze dell'ordine per liti, tra gli stessi avventoni, per la musica troppo alta e per interperanze, sempre da parte dei clienti, in occasione del passaggio del corteo per la festa della Repubblica, il 2 giugno. È il quinto locale chiuso dal questore d'Orisio in poche settimane, dopo il Ryan Pizza, il Kebab, il Queen's Bar, il Bar Commercio e il Bar Tiffany. Cambiamo argomento adesso e parliamo della pitina, una specie di salume tipico delle valli pordenonesi, come sappiamo è stata recentemente registrata tra i prodotti IGP, vale a dire a indicazione geografica protetta. Un riconoscimento che ne tutela la produzione a livello europeo e che viene visto come un'importante occasione di rilancio turistico del territorio. I produttori della pitina sono attualmente sei e si sono riuniti in un'associazione che mira ad ampliarsi sempre più al prodotto, sempre più richiesto anche in altre regioni e dedicata a una festa che si terrà a Tramonti di Sopra dal 20 al 22 luglio. Sentiamo Monica Nardini. Per il momento siamo sei produttori ma chiaramente speriamo che ne vengano altri. Il territorio parte diciamo dal comune di Tramonti di Sopra, lungo la strada, tutti i comuni fino ad arrivare a Erto. Si sta costituendo un'associazione di produttori di pitina IGP? Sì, per il momento abbiamo costituito l'associazione, in futuro vedremo eventualmente se costituire un consorzio. Essendo un prodotto di estrema nicchia la commercializzazione soprattutto è locale qui in Friuli, noi puntiamo tanto sulla ristorazione perché la ristorazione la sa raccontare, la sa presentare, però chiaramente si sta allargando il territorio. Sono Gianni ormai essendo anche nel mondo di slow food che commercializzo con la Lombardia, con il Veneto, con la Liguria, con la Sicilia, con la Campania, per dire con Lazio. Attualmente vengono prodotte circa 100.000 pitine annue. Per una produzione maggiore chiedete un supporto degli allevatori? È certo che gli allevatori aumentino come numero di animali e anche che le istituzioni diano una mano a questi allevatori di pecore e capri. Teniamo presente che in un greggio di 100 capi all'anno si possono utilizzare 10 capi, cioè 10%. Essendo un prodotto che non si potrà assolutamente fare numeri, cioè fare quintali, quello che è importante è promuoverla sul territorio per attirare il turismo, farla conoscere a livello turistico. Dagli anni 60 al comune di Tramonti di Sopra propone la festa della pitina. Quest'anno in programma dal 20 al 22 luglio. In che cosa consisterà? Saranno tre giorni all'insieme della scoperta non solo di questo prodotto di eccellenza ma di tutte le eccellenze che il mondo addirittura può dare. Perché la collaborazione con Slow Food ha portato quest'anno molti produttori, in particolare dall'estero, ci saranno produttori dall'Indonesia e perfino a Armenia, cioè una roba spettacolare. Senza contare i numerosi produttori italiani, Presidio Slow Food. Quindi un festival all'insegna della qualità e della cultura perché saranno numerosi gli spazi riservati anche a questo argomento. Siamo allo sport adesso, quarto giorno di allenamenti per l'Udinese che questa mattina ha lavorato al Bruseschi. Questo pomeriggio andrà invece in palestra dove lavorerà sulla forza fisica. Allora sentiamo come è andata la seduta di questa mattina nel servizio di Francesco Pezzella. È iniziata al centro sportivo Dino Bruseschi oggi la quarta giornata di lavoro sul campo per l'Udinese targata Ulio Velazquez. La squadra ha lavorato prima sul campo numero uno con una corposa seduta atletica e portiere ovviamente a parte con i loro preparatori e poi sul campo numero due per cominciare, continuare a lavorare sul passaggio, sul fraseggio, sul gioco, su quello che Velazquez vuole far fare alla squadra. Avremo dei primi segnali sul lavoro di Velazquez ovviamente nella prima amichevole di questa stagione alle 18 di sabato a Manzano. Approfitto anche per ricordarvi che noi saremo collegati dalle 17 con il comunale di Manzano con un prepartita in studio, collegamenti dal campo per le curiosità, le formazioni. Questo sarà il format che accompagnerà tutte le nostre produzioni sulle amichevoli dell'Udinese in questa fase di precampionato. Amichevoli che trasmetteremo tutte in diretta e tutte in esclusiva. Ma torniamo al lavoro di questa giornata. La prima seduta, come dicevo, si è svolta su due campi. Una battuta possiamo farla. Il programma di lavoro di tutte le squadre di Serie A che sono già in ritiro senz'altro sarà cambiato dopo la notizia di Cristiano Ronaldo ufficialmente alla Juventus. Un lavoro particolare per i portieri e per i difensori già preoccupati dal doversi confrontare con l'asso portoghese che arriverà ad impreziosire sicuramente il nostro campionato. Udinese dunque che continua a lavorare in vista della prossima stagione. Vi ricordo che dal 18 la squadra si trasferirà nel ritiro austriaco di Sun Fight. Ci sarà probabilmente anche un'altra amichevole prima di chiudere la fase che si sta svolgendo qui in città. Sapremo essere più precisi nei prossimi giorni sull'avversario e sull'orario, sulle modalità di svolgimento di questa seconda amichevole. Poi il programma che proseguirà in Austria per il momento c'è come data unica certa quella del 28 luglio a Klagenfurt la partita che si giocherà contro il Leicester. Appuntamento dunque per quanto riguarda gli allenamenti, le immagini esclusiva, le interviste da questa sede del ritiro dell'Udinese nel telegiornale di questa sera. E allora parliamo adesso della nostra prima serata. Questa sera alle 21 in programmazione c'è a tutto Quiz 4.0 Final Destination, la trasmissione a cura di Massimo Campazzo che ci terrà a compagnia per tutta l'estate. Il Quiz metterà in sfida tanti concorrenti su domande prettamente di geografia locale, nazionale e internazionale. In palio un weekend lungo in una meta sconosciuta che verrà resa nota solamente nel corso dell'ultima puntata. In chiusura il meteo diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Secondo gli esperti dell'Osmer Arpa oggi avremo cielo in prevalenza nuvoloso. Dal pomeriggio saranno probabili piogge in genere da deboli a moderate ad ovest e sui monti ma anche localmente intense e temporalesche sulle zone orientali e sulla costa. Dalla sera tempo in genere migliore sui monti ad ovest. Residue piogge ancora ad este e sulla costa. Le temperature massime oggi non supereranno i 22-25 gradi. Ed è tutto per questa edizione del nostro Tg. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di Udinews TV.